In Pari, ufficialmente loro dicono poco più di mille, no? Gli alberi. Per ettaro. Per ettaro. Non in totale. No. Quindi vuol dire per 3,2. Vuol dire per 3. Quindi stiamo parlando di alcune migliaia di alberi che vengono comunque sacrificati. Per fare, cioè io, può anche darsi, anzi sono sicuro che i piloni verranno trasportati con l'elicottero. Sì, questo sì. Ma questo d'accordo, perché ho visto fare operazioni del genere in montagna. Ma le basi, no. Le basi non possono essere fatte come le cose. Per arrivarci a costruire le basi bisogna qualche maniera fare una strada di cantiere. E quindi abbattere. Che la questione cabinovia sia fonte sempre più perenne di polemiche è un dato di fatto. Tra le più combattute c'è quella inerente al numero di alberi da abbattere. Cosa che evidentemente ancora una volta ispira differenti interpretazioni. Secondo l'ex rettore, ospite ieri di Ring, i 1142 alberi sacrificabili, numero comunicato dal comune, sarebbero da intendersi per ogni ettaro di bosco interessato dalle opere necessarie all'impianto. Oggi l'ingegner Giulio Bernetti, il dirigente comunale incaricato di seguire il progetto cabinovia, ribadisce e confermezza. Il documento rapporto ambientale legato alla variante conferma il numero fornito dal comune, compreso ciò che sarà necessario abbattere per l'installazione dei piloni. La realizzazione del progetto prevede un massimo, sto parlando di un massimo, di un migliaio di alberi abbattuti, tra alberi e arbusti parliamo, e saranno tutti ripiantati in maniera anche maggiore. Gli alberi crescono, nascono, muoiono, vanno aiutati, vanno gestite anche le zone verdi. Questo è molto importante. Ricordiamo che la tempesta vaia, pochi anni fa, ha devastato milioni di alberi. E per inciso le cabine oviglie sono rimaste su. Piccola postilla, il documento cui fa riferimento Bernetti consta di mille pagine. Chissà quante polemiche potrebbero ancora scaturirne.